Amici 22, Linus boccia il nuovo inedito di Non mi piace, il ritornello è brutto. A 24 ore di distanza dall'inizio della registrazione del secondo serale di Amici 22, i telespettatori sono stati aggiornati sui pareri che Linus ha espresso sui cantanti del cast. Il direttore di radio DJ, infatti, ha ascoltato, giudicato e votato i nuovi inediti dei ragazzi della scuola, dando vita ad una classifica che ha spiazzato i fan. Cricca e Federica non sono piaciuti affatto. Mentre Angelina e Piccolo G hanno ricevuto parecchi complimenti ai primi due posti in questa singolare graduatoria. Il Daitime che è andato in onda il 22 marzo, ovvero un giorno prima della seconda registrazione del serale di Amici, è stato interamente dedicato ai cantanti della scuola e ai loro nuovi inediti. Maria De Filippi ha informato i tetolari che a breve avrebbero sostenuto una gara davanti a Linus. L'esperto di musica che ha ascoltato e valutato le loro nuove canzoni. Il primo a presentarsi davanti al giudice speciale di oggi, è stato Cricca, il titolare del team Cuccarini maniù e lo ha eseguito il brano Maledetta Felicità e poi ha scoperto il parere del direttore di radio DJ. Non mi piace, la strofa può andare anche bene ma il ritornello è brutto. Forse dovevi tenere il brano precedente. Questo non ti valorizza in molte parti, ha detto Linus senza girarci troppo intorno. L'allievo ha incassato il colpo, ha ringraziato ed è andato via senza replicare. Gli inediti di Angelina e Piccolo G hanno convinto il giudice del pomeridiano, tant'è che i loro interpreti hanno ricevuto complimenti e consigli utili per il futuro. Il brano di Federica, scivola, non è piaciuto Linus, che alla fine della musica ha chiesto, ma te piace questo pezzo? A meno in alcune parti sei in difficoltà e non sembra che tu non abbia mai studiato canto. Anche l'allieva di Arisa è rientrata in casetta senza rispondere e accettando la critica. Wax, invece, è stato definito una copia di Blanco, secondo l'esperto di musica. Infatti, il giovane dovrebbe distaccarsi dal rappere e puntare sull'originalità. Ad Aaron, invece, Linus ha suggerito di svecchiare un po' il suo repertorio, vista la sua giovane età. L'alunno di Serbi dovrebbe scrivere canzoni più leggere e più adatte alle esperienze che ha vissuto. Terminata la gara, tutti i cantanti sono rientrati in casetta e li hanno scoperto la classifica che è stata generata dai voti di Linus. Come si poteva evincere dai pareri che il giudice ha dato a voce, agli ultimi posti si sono piazzati Cricka e Federica a pari merito, terzi con lo stesso voto Wax e Aaron. Che proprio in questi giorni si sono scontrati più volte sui guanti di sfida che i loro professori hanno lanciato. A vincere la gara inediti del 22 marzo, dunque, è stata Angelina, la figlia di Mango abbattuto di un soffio piccolo G. Anche lui tra i più convincenti con il brano normale. Domani, però, tutti gli allievi saranno impegnati nella registrata la seconda puntata del serale, giovedì 23 marzo. Infatti, Maria De Filippi condurrà l'appuntamento che sarà trasmesso su canale 5 sabato 25. In serata, dunque, inizieranno a circolare le anticipazioni di quello che accadrà in studio. A partire dai nomi dei ragazzi eliminati e di quelli a rischio. Il meccanismo, infatti, prevede che altri due titolari lasciano la scuola a termine di tre manchi alle quali parteciperanno altrettante squadre, i verdetti che emetteranno i giudici esterni. Sveleranno quali cantanti o ballerini dovranno tornare a casa nella fase iniziale del prime time del talent show. Nostam forn, la cum mă comport, întreab-asta lui-i loc de comfort, rigor, ci-o mor tot. Sunt un cluj ișetor, lansă-n rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când aveam mall, de când nu știai ce în miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor la 0 grade biscol. Nu tag nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-ha prin pori, bile mari, zintori. C'è sti che tu fai trimi ciocan umane Spre cer si dau jos carul mare Astrologia treaba ca...